Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival La grande festa del cinema indipendente e internazionale Tre grandi eventi ad ingresso gratuito 10 novembre Notte Horror 11 novembre Animazione e cortometraggi 12 novembre Documentari e lungometraggi Dal 10 al 12 novembre Voghera Film Festival 2017 Al The Space Cinema di Montebello della Battaglia Shandas River, il film horror gerato in oltre po' dal regista vogherese Marco Rosson Che ha conquistato l'Europa e gli Stati Uniti Aggiudicandosi premi prestigiosi come il Los Angeles Film Awards Il New Jersey Horror Con e l'Upstate New York Horror Film Festival Arriva per la prima volta nelle sale del The Space Cinema di Montebello della Battaglia La proiezione con ingresso gratuito avverrà venerdì 10 novembre alle 23 Fuori concorso al Voghera Film Festival Un'ora prima dalle 22 verranno presentati e premiati i tre cortometraggi horror Finalisti della rassegna cinematografica organizzata da Ieri a Cultura La quinta edizione del Voghera Film Festival proseguirà sabato 11 con il concorso animazione Dalle ore 22 e la sezione dedicata ai cortometraggi dalle 22 e 30 Ultima giornata domenica 12 novembre dalle ore 14 con concorso documentari E la sezione lungometraggi dalle 16 Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito Tutti gli eventi sono ad ingresso